Discutere con i rappresentanti territoriali degli accordi che sono stati sottoscritti a livello regionale dalle nostre organizzazioni sindacali. Questo è lo scopo del faccia a faccia che a Pistoia, la sede della CGL, ha visto confrontarsi i rappresentanti della funzione pubblica e del settore sanità del sindacato con la consigliera regionale Federica Fratoni, componente della commissione che si occupa di sanità in regione. Alla base dell'incontro a Pistoiese, l'intesa sottoscritta dalle organizzazioni sindacali con la stessa regione lo scorso settembre nella quale sono state messe nero su bianco alcune richieste dei rappresentanti dei lavoratori. Prima fra tutti la necessità di arrivare per via legislativa a poter definire in modo più concreto e attuabile la mobilità all'interno della regione toscana fra aziende sanitarie. Dal sindacato è arrivata poi anche una richiesta per la stabilitazione degli operatori della sanità. Chiediamo che anche queste siano calendarizzate tutti gli anni e che si arrivi a portarle stabilmente per stabilizzare le persone che sono attualmente introdotte nel sistema sanitario a tempo determinato e quindi dare un avanzamento del diritto del lavoro a questi lavoratori. Sicuramente l'accordo dell'8 settembre pone l'accento e devo dire prende in carico questioni che sono fondamentali come la mobilità all'interno dell'azienda fra lavoratori, la possibilità di procedere con stabilizzazioni che sono importanti anche per la qualità del servizio, non solo per la prospettiva dei singoli. Quindi sono aspetti che chiamano in causa il Consiglio regionale perché alcuni di questi dovranno essere assunti in atti, in indirizzi o anche in modifiche di legge. Quindi sarà mia premura confrontarmi prima di tutto con i colleghi e cercare le strade più funzionali per supportare la Giunta, l'assessore Bezzini, il presidente Gianni nel dar seguito a un'intesa che mi sembra voglia qualificare in un momento di oggettiva difficoltà il lavoro dei dipendenti del sistema sanitario toscano, un sistema pubblico che costituisce una grande eccellenza a livello nazionale e non solo.